Prima di continuare ti ricordiamo di iscriverti al canale per supportarci e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. La vacanza in Brasile di Ilari Blasi e Bastian Müller continua a sorprendere, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. I due innamorati si trovano a Rio de Janeiro da alcuni giorni, godendo di momenti spensierati e di condivisione che hanno trovato il loro palcoscenico principale su Instagram. I loro profili social sono diventati un vero e proprio album di viaggio, una raccolta di selfie spensierati, panorami mozzafiato e video divertenti. Ma non solo, anche una scintilla passionale è riuscita a infiammare le foto e questa mattina si è sprigionata tutta la sua intensità proprio ai piedi della celebre statua del Cristo Redentore. In quel luogo iconico, Ilari e Bastian hanno trascorso un bel po' di tempo, catturando attimi di felicità e di amore con uno scatto mozzafiato. Lei è avvindiata a lui, le gambe intrecciate dietro la schiena, mentre lui la stringe teneramente tra le braccia. Oltre alla grande intesa che li lega, traspare anche un'enorme complicità e un divertimento contagioso. Nonostante le barriere linguistiche, Bastian parla solo inglese, l'umorismo sembra essere una lingua universale che parla attraverso le loro foto su Instagram. Tra le storie condivise, spiccano una serie di scatti in cui Ilari ha catturato Bastian in situazioni esilaranti. Lui, con grande autoironia, commenta Ilari, sei la migliore fotografa del mondo. Grazie per i ricordi, accompagnando il messaggio con una risata fragorosa. E Ilari, sempre pronta a scherzare su se stessa, non perde occasione per alimentare il divertimento reciproco.